Maestro, quando vuoi, eh? Ok, pronti? Ok, pronti? non so che se il pezzo è la poesia che ce lo dico è perché ha fatto suonare la chitarra e prima non la suonare no, dobbiamo capire se deve suonare o non sta chitarra prima era solo orchestra entrate nel pezzo si arriva troppo alto da là, capito? per il momento il fraccio è il pezzo vai vai vada 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione